Ciao a tutti ragazzi sono Orko Verde, in questo video volevo informarvi riguardo l'evento che Rockstar ha rilasciato su GTA 5 Online. Come bonus se accedete a GTA Online entro o il 29 giugno, giovedì 29 giugno, riceverete gratuitamente una maglietta AVC e Little Nera. Inoltre Rockstar ha deciso di estendere il periodo di tempo a disposizione per riscattare le magliette Class of 98 blu e rossa dell'evento precedente, perciò se vi collegate a GTA Online entro o il 29 giugno, riceverete le magliette dell'evento precedente Class of 98 blu e rossa. Passando agli sconti c'è lo sconto del 25% sulle coil Brawler che sarebbe una fuoristrada, poi c'è lo sconto del 25% sull'elicottero Valkyrie, poi c'è lo sconto del 25% su giubbotti antiproiettile, c'è lo sconto del 25% su armature per veicoli e c'è lo sconto del 25% sulle gomme antiproiettile. Poi ci sono due gare premium e due prove a tempo, la prima gara premium e la prima prova a tempo dureranno entrambe fino al 26 giugno. La gara premium è canale di scolo, una gara premium per veicoli speciali, precisamente solo per i blazer acqua, mentre la prova a tempo è da un'estremità all'altra. Poi la seconda gara premium e la seconda prova a tempo saranno entrambe disponibili dal 27 giugno fino al 3 luglio, la gara premium è centrifuga solo per auto super, mentre la prova a tempo è a forza an cudo. Tutti i giocatori che parteciperanno alle gare premium guadagneranno tripli RP, mentre chi si qualificherà al primo, secondo e terzo posto, quindi nel gradino del podio, riceverà un premio in denaro. Mentre riguardo le prove a tempo bisognerà battere il tempo di riferimento segnato in basso a destra per ricevere ricche ricompense in denaro ed RP. E questi sono gli sconti e i bonus che sono attualmente disponibili nell'evento che abbiamo ora su GTA Online. E sempre nell'articolo che riguarda l'evento, Rockstar Games ha annunciato i 5 vincitori dell'evento Snapmatic, mostrando le immagini che hanno scattato questi vincitori nel gioco e svelando i premi che Rockstar ha regalato ai vincitori dell'evento Snapmatic. Se siete interessati o siete curiosi di sapere com'è terminato l'evento Snapmatic, in descrizione lascerò il link dell'articolo dell'evento dove Rockstar ha anche annunciato i vincitori e svelato i vari premi. Perciò niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un bel pollicione in su, un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video e da Orkover tutto ci vediamo al prossimo video. Bella!